E anche questa settimana è arrivato il momento di parlare di cinema. E allora, ben arrivato Andrea Corrado. Ben trovati. Due spunti di questa settimana. Sì, due spunti. In attesa di sapere quali saranno i film italiani che andranno a Cannes, che ci sarà a maggio il festival, come tutti sapete. Due segnalazioni brevi. The Idol, un film di Ani Abu Assad, regista palestinese, affermato, noto e premiato, sulla storia vera di Muhammad Asaf. È una storia di riscatto e di speranza girata a Gaza. Con la sua voce, Muhammad Asaf vinse un premio in Egitto e portò, come se restituisse voce, a un popolo ristretto coercitivamente in un ambito, come sappiamo, c'è un muro, ci sono confini, c'è l'embargo e i palestinesi che vivono nella striscia di Gaza non possono muoversi. L'altra storia della settimana è l'Universale, un film italiano di Federico Micali, o Micali, non so bene come si dica, un film divertente, più nostalgico, più rivolto al passato, perché racconta la storia di questo cinema fiorentino, appunto, universale, diventato un cinema del serio, accadevano cose stranissime, c'era chi ci entrava con la vespa e suscitava il panico tra gli spettatori, ma è un film che invoca quasi una resistenza degli ultimi piccoli cinema delle città e delle province che rischiano la chiusura. Allora, The Idol e l'Universale sono le segnalazioni di Andrea Corrado di questa settimana, ovviamente andatele a vedere e poi magari commentate se vi sono piaciuti o no. Grazie, alla prossima. Grazie a tutti.